Buongiorno, oggi ho il piacere di farvi entrare nel mondo del gruppo Vason. In 50 anni di attività siamo passati dall'enologia di correzione all'enologia di precisione, di cui siamo stati pionieri. Ora vogliamo introdurvi una novità assoluta nel nostro settore, l'enologia molecolare. Partendo dalla molecola diamo voce al concetto di enologia di espressione, in grado di rivelare e comunicare al meglio il carattere di ogni vino e di ogni vitigno. Mio padre ha iniziato la sua carriera di enologo ormai 50 anni fa, ha lavorato fianco a fianco con i migliori professionisti del vino del mondo. Oggi noi continuiamo insieme lui il nostro percorso, investendo in risorse, tempo e passione per offrire sempre il meglio ai nostri clienti. La nostra attività di studio di ricerca è sempre molto intensa. Il desiderio di dare luce e stabilità al vino, di valorizzare nella natura il carattere, ci ha portato ad esplorare il mondo dell'infinitamente piccolo, fino a conoscerlo e a rendercelo amico. Utilizziamo il termine enologia molecolare per indicare una ricerca in campo enologico eseguita utilizzando tecnologie biomolecolari ampiamente diffuse in altri settori. Mutuando queste linee di ricerca si arriva ad un'applicazione enologica. Questa è una vera rivoluzione per il mondo enologico, perché si lavora sulla struttura dei vini partendo dalla loro componente più piccola, la molecola. Le applicazioni enologiche già provate a livello sperimentale ci hanno stupito ed entusiasmato e ci hanno spinto a scegliere di percorrere questa nuova via di studio. Le tecniche biotecnologiche molecolari rendono molto più attive le silici colloidali e le betoniti nell'andare a muovere le proteine nella stabilizzazione dei vini bianchi, permettendo un uso limitato di coadiuvanti chimici, limitando gli sprechi e preservando la qualità totale dei vini trattati. L'enologia molecolare ci permette di affrontare il tema della cassa proteica dei vini bianchi in un modo estremamente diverso e innovativo. Giuclas è la nostra divisione che progetta e sviluppo impianti innovativi per il settore enologico e del beverage. La progettazione, oltre al massimo rispetto delle direttive macchine in vigore, pone una grande attenzione ai requisiti per la certificazione di igiene. Un'attenta selezione di componenti di eccellenza uniscono enologia e tecnologia per sviluppare impianti stabili, sicuri e garantiti. Queste tecnologie innovativi di Giuclas sono a disposizione di tutte le cantine anche attraverso i servizi mobili di Coriantex Service. I nostri studi trovano la loro applicazione tecnologica nelle soluzioni di Giuclas. Si tratta di applicazioni innovative che tendono con metodi fisici ad accelerare i tempi di affinamento dei vini bianchi sui lieviti e l'estrazione del colore nella vinificazione in rosso. Tutto questo per valorizzare la qualità e l'espressione dei vostri vini, esaltandone la salubrità e mantenendone la tipicità. Giuclas è titolare di diversi brevetti, che vedono due criteri fondamentali nella loro realizzazione, ecosostenibilità e rispetto del lavoro di chi il vino lo produce con impegno e passione. L'obiettivo delle ricerche del gruppo Vason è massimizzare l'espressione dei vini rispettandone la natura e la struttura. L'obiettivo dell'enologia molecolare è produrre coadiuvanti con altissima specificità, limitandone gli effetti secondari e riducendo gli sprechi al minimo. La sua attività serve per ottimizzare l'efficacia di ogni coadiuvante. La nostra è una realtà dal DNA enologico. Mia madre produce vini e mio padre ha fondato l'azienda. Io e Dalbano siamo al loro fianco fin dall'inizio della nostra carriera. Per noi l'enologia non è solo un affare di famiglia, è una missione. Siamo entrati nell'era dell'enologia molecolare. Abbiamo lasciato l'era dell'enologia di correzione passando dall'enologia di precisione fino ad arrivare all'enologia molecolare che mira a valorizzare al meglio l'enologia d'espressione e a farne una realtà quotidiana. Guardiamo il futuro con fiducia e con la nostra attività esce dai confini nazionali e porta il Made in Italy nel mondo perché tutta la nostra produzione e i nostri studi sono italiani. Sul serio!